Cari amici, bentornati al bello di Trenord. Oggi ci troviamo su un nuovissimo treno Caravaggio che compie la sua prima corsa tra Milano Porta Garibaldi e Porto Ceresio, passando per Varese, Legnano, Gallarate e Busto Arsizio. Da martedì 1 febbraio inizieremo a cambiare tutta la flotta di questa linea e sarà tutta composta da questi nuovi treni. Sostituiremo i treni Coradia Meridian che sono pur sempre molto moderni che andranno a prestare servizio in Valtellina. Questo treno è dotato di 445 posti a sedere e da 12 posti per le biciclette. È un treno non solo per la giornata dei pendolari ma anche per il turismo. Eccoci dunque arrivati a Porto Ceresio con il nuovo treno Caravaggio che vedete qui alle mie spalle. Dal 1 febbraio 16 corse delle 37 di questa linea saranno effettuate con questo treno e dentro la fine di marzo tutta la flotta sarà sostituita.